è incredibile come vola il tempo nel giro di un attimo ci ritroviamo già proiettati alla terza giornata di serie a sembra che è cominciato ieri il campionato e oggi come potete ben vedere sono qui senza l'ausilio non pierino del buon fabio ma tranquilli ve l'ho detto si sta prendendo una breve vacanza dalla prossima settimana tornerà tutto come sempre tutto come prima di conseguenza oggi ci analizziamo questa terza giornata di serie a a bocce ferme tra me e voi bentornati e ben ritrovati vi chiedo ovviamente se volete che questa serie continui anzi vi ringrazio innanzitutto per il supporto che avete dato ai primi due episodi e spero possa continuare questo grandissimo supporto da parte vostra vi chiedo appunto di lasciare mi piace di continuare a sostenere questo contenuto se volete che questa serie vada avanti fino alla fine della stagione visto che il video lo avete aperto tutto al più che oggi in cesta fabio al prossimo torna anche lui mi raccomando per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblico qualcosa vi basterà iscrivervi attivando anche le notifiche come se fa clicchi sul tasto iscriviti c'è una campanella clicchi sulla campanella si apre un menu a tendina clicchi su tutte le notifiche in modo tale che ogni volta che pubblico qualcosa non puoi perderti più neanche un contenuto ti ricordo vi ricordo due canali di calcio un canale extra calcio li lascio in descrizione come sempre compariranno qui durante il video allora questa terza giornata di serie all'apre una partita secondo me interessante a suo modo venezia torino soprattutto lato torino per quello che stiamo vedendo per quello che abbiamo visto in queste prime due giornate ma non li sta facendo veramente bene c'è una contestazione di mezzo da parte dei tifosi che non si aspettavano l'addio anche di bellanova era già partito buongiorno si diceva se parte buongiorno non parte bellanova poi però c'è stato lo scarico a barile no perché bellanova voleva andare via dinamiche che conosciamo ma le dinamiche di campo ci dicono che il torino ragazzi ha avuto un impatto in seria con questo nuovo allenatore veramente incredibile d'altra parte un venezia che nella passata giornata qualche giorno fa si è salvato grazie a qualche intervento importante da parte di joronen in questo caso ragazzi un'altra partita ostica per il venezia per di francesco hanno la possibilità di giocarsela in casa il fattore casa non è mai da sottovalutare ma ragazzi io vedo il torino nettamente avvantaggiato ve lo dico proprio onestamente se avete i joronen al al fantacalcio e non avete migliori scelte se la dimensione è tra avete preso due barra tre portieri di squadre insomma della zona salvezza io comunque nonostante vedo avvantaggiato il torino e probabilmente almeno un gol lo farà schiererei i joronen perché sta in uno stato di forma importante qualche altra parata importante la potrebbe fare al netto poi qualche malus ma insomma potrebbe prendere un voto alto in in casa giocatore del movimento voglio dirvi anche quello per per il venezia e io punto tutto suo ristagno a sto giro finora non l'ho mai nominato se non sbaglio ha nominato il il buon fabio nelle prime due giornate in una delle due occasioni per quanto riguarda il torino ragazzi un torino sicuramente più spregiudicato più propositivo e io non posso che dirvi adams sicuramente verrà riconfermato titolare dopo la bellissima prestazione della passata partita con le assist addirittura e lo vedo un calciatore che ha avuto un impatto importante in in serie a e soprattutto con proprio con il con il torino di conseguenza secondo me dire zapata è abbastanza scontato adams potrebbe essere quella ancora è scommessa potrebbe diventare una certezza importante inter atalanta oggi proprio ragazzi è la settimana per eccellenza dei big match addirittura ce ne sono tre pesantissimi o tutto o niente e inter atalanta preparatevi io vi dico quella che è una mia percezione dei fatti è 30 agosto ore 20 e 45 quindi in serale farà meno caldo sicuramente rispetto rispetto il giocare alle alle 18 e 30 l'inter è chiamata in realtà già ad inseguire ad inseguire la juventus che ha vinto le prime due l'inter a 4 punti la juve a 6 sono un po costretti a vincere dall'altra parte lato inter c'è la fortuna che per me fortuna non è che la juventus c'è un altro big match tra virgolette no big match tra virgolette gioca contro di noi che comunque siamo una realtà abbastanza importante della serie a seppur indietro rispetto altre squadre però tra le due secondo me ad oggi la partita più difficile c'è l'inter l'atalanta l'ultima l'ha persa col torino ma non avrebbe meritato la sconfitta io mi sento che l'inter possa avere più di qualche difficoltà nonostante il fattore casa nel portarsi a casa il bottino pieno l'atalanta venderà cara la pelle l'atalanta è una squadra che in questa stagione ha cambiato tantissimo e che ha voglia di fare non prevedo un atalanta che non riuscirà diciamo a rispondere ai colpi dei nerazzurri nerazzurri contro nerazzurri secondo me sarà una sfida veramente interessante veramente incredibile giocheranno a viso aperto ragazzi sono sicuro che l'atalanta venderà cara la pelle non vorrei che l'inter possa lasciare qualche altro punticino per strada non mi meraviglierei neanche qualora l'atalanta dovesse ragazzi lo dico in maniera anche abbastanza clamorosa perché parliamo dei campioni d'italia in carica dovesse riuscire a strappare il bottino pieno non è una situazione che vado ad escludere a priori potrebbe anche vincere l'inter per carità è da tripla per eccellenza qualcuno dirà l'inter è favorita sì ma io non so perché ragazzi mi sento di propendere per quel per quel qualcosa in più dal punto di vista dell'atalanta percezione poi non è che porto la verità oggettiva dovesse giocare taremi titolare perché ad oggi viene riportato è stato recuperato lautaro martinez ma dovesse giocare taremi titolare ragazzi io lo rischierei onestamente parlando dovesse giocare lautaro martinez titolare a parte che sarebbe troppo scontato dire lui ma non mi sento possa essere la settimana buona per per lautaro è partito un po a rilento ecco se proprio non dovesse giocare taremi fate attenzione anche a mikitarian che secondo me può rialzare elastici a lei può dare quel qualcosa in più dal punto di vista dell'atalanta dovesse giocare brescianini io lo terrei veramente sott'occhio dovesse partire titolare samarzic tenetelo particolarmente sott'occhio perché vi ricordo era praticamente incalciatore dell'inter non escluderei qualcosa visto che insomma ci sono dei trascorsi storici tra atalanta e giocatori che fa esordire già in questa stagione no subito immediatamente stesso discorso ve lo faccio per bellanova ex proprio per eccellenza dovesse partire titolare non dovesse giocare zappacosta attenzione anche a bellanova vi ho lanciato più di qualche provocazione però il plus secondo me potrebbe essere brescianini qualora partisse titolare partita successiva bologna empoli qui sarà un po più rapido l'empoli sta cavalcando la cresta dell'onda della vittoria all'olimpico contro la roma e a sto giro affronta un bologna che ha appena preso tre fischioni dalla napoli un bologna che c'ha bisogno di ritrovarsi è la realtà dei fatti lo dice la classifica no lo dicono i due passaggi a vuoto che il bologna ha fatto le occasioni sprecate nella prima contro l'udinese un sacco di dinamiche ma io proprio per questa analisi che vi sto facendo credo che il bologna anche per il fattore casa possa avere la meglio non gli evo di sempre male ragazzi forse è arrivato il momento per italiano di cominciare a capitalizzare le occasioni che crea e a sto giro ragazzi mi riferisco soprattutto alla prima partita contro l'udinese a sto giro ragazzi io vedo vantaggiato il bologna se la potrebbero portare a a casa continuo a puntare fortemente su castro non so se se giocherà titolare viene riportato al momento e dovesse giocare titolare ragazzi io punterai forte su su di lui non punterai su su nessun altro onestamente per quanto invece riguarda l'empoli fate attenzione a fazzini perché è quel calciatore di estro simile in realtà a baldanzi del del precedente periodo quando si giocava a baldanzi per l'empoli c'ho questa percezione che possa visto anche contro contro di me è troppo scontato di colombo ragazzi sta affrontando anche un buon momento di forma attenzione a fazzini che secondo me può avere quel quel plus in più lecce cagliari scontro per la salvezza per eccellenza lecce che proverà a sfruttare il fattore casa cagliari che ragazzi zitto zitto con nicola sicuramente il suolo sta facendo alla prima 0 a 0 con la roma un punto veramente d'oro barra fondamentale alla seconda contro un como che ha comprato tutto e tutti non lo vedo un punto da buttare no il lecce è chiamato però ragazzi a fa punti ci hanno serio bisogno di cominciare a fare qualche punticino perché poi le prime due vabbè atalanta e inter che ce vuoi fa è normale pure che perdi no e vista alla luce di questa analisi secondo me c'ha un pizzico di vantaggio il lecce dice no perché ha perso con un pizzichino di vantaggio il lecce potrebbe riuscire a strappare il bottino pieno altrimenti andrei per un pari con nicola ragazzi anche una vittoria in trasferta non sarebbe così impossibile però propendo più per qualcosa dalla parte del del lecce è arrivato il momento di dorgo a mio modo di vedere ve l'ho già detto in un'altra occasione ma sto giro ragazzi secondo me metterà il sigillo per quanto riguarda il cagliari so che ve l'ho già nominato ma proprio perché l'ultima volta che ve l'ho nominato non ha concluso nulla per me a sto giro lungo ragazzi riuscirà a mettere il il sigillo se proprio c'è qualcuno che deve segnare per quanto mi riguarda altro big match per eccellenza parliamo di lazio milan 31 agosto alle 20 e 45 è una partita impronosticabile ad oggi perché fonseca ha fatto vedere tutto il contrario di tutto tutto nelle amichevoli quando in realtà il risultato contava poco il contrario di tutto per quello che abbiamo visto nelle prime due giornate di serie a due passaggi a voto clamorosi soprattutto il secondo contro il parma in casa del parma e la neopromossa la lazio pure ci ha fatto vedere tutto il contrario di tutto una vittoria convincente col venezia e poi ragazzi una sconfitta imprevista secondo me contro l'udinese e qua potrebbe essere una partita da pareggio non so perché ma io propendo leggermente in favore della lazio forse il fattore casa forse per quello non lo so poi effettivamente come potrebbe finire ripeto anche questa è una partita da tripla per eccellenza e per quanto riguarda il milan anzi per quanto riguarda la lazio prima vi do un nome io forse vado sul sicuro vado sulla garanzia non sto andando su casteggiano sto andando su su zaccagni la fasciata capitano secondo me gli sta dando quella dimensione da trascinatore lo vedo un po più come si dice no esperto non è il responsabile da quel punto di vista non mi veniva il termine in realtà ne volevo utilizzare un altro ho utilizzato un sinonimo quello che volevo utilizzare ragazzi non mi esce fuori ma va bene e credo sia arrivato anche il momento di di love to seek ho sputato il ragazzino qualora dovesse effettivamente giocare trequartista nel 4 2 3 1 secondo me potrebbe ritornare sui ritmi e sui livelli della della passata stagione la passata stagione dei collettini ha fatto più di più di qualcuno per me questo è un altro big match in realtà parliamo di napoli parma per la storia del parma per quello che il parma ha fatto vedere nelle prime due giornate per i calciatori interessanti che è il parma e per quello che il napoli ovviamente ha fatto vedere tra prima e seconda giornata da 3 a 0 a 0 3 tutto il contrario 3 a 0 a 3 a 0 tutto il contrario di tutto perdi 3 a 0 vinci 3 a 0 adesso qual è la realtà la dimensione un pareggio contro questo parma non mi stupirei ma io credo che si possa cavalcare la cresta dell'onda positiva dell'ultima partita degli ultimi arrivi e sono convinto che ragazzi nonostante il parma venderà cara la pelle ma alla fine potrebbe spuntarla il napoli non viene riportato titolare in questo momento direc vara è scontato se ce l'avete al fantacalcio è ovvio che lo schierate se schiera tutte le giornate uno come kbara invece il punto interrogativo potrebbe essere neres non dovrebbe partire titolare attualmente viene portato 51 politano 49 neres ma per quello che ha fatto vedere nella prima di campionato all'esordio da subentrato neres che subito ha messo il sigillo per me c'ha tutto il potenziale per prendersi il posto da titolare e per rimette nuovamente un mezzo sigillo che sia un assist che sia un gol se c'avete neres ragazzi io proverei e lo rischierei e dirvi man ragazzi ad oggi se ce l'avete man va schierato perché lo avete visto quello che ha dato nelle prime due giornate in termini fantacalcistici ma a sto giro ragazzi io farei particolare attenzione a bernabè e a miaila miaila anche sfortunato situazione palo vi ricorderete nella precedente partita col col milan se ne devo scegliere solamente uno vi dico miaila tra tutti i calciatori secondo me è quello che può tirare fuori una prestazione interessante fiorentina monza questa è un'altra partita interessante permettetemi di dirlo perché poi è il passato de pallatino in tutti i sensi adesso allena la fiorentina allenava il monza nesta c'era una trasferta difficile monza che secondo me qualche difficoltà di troppo la sta avendo e potrebbe essere una partita da pareggio poi se la fiorentina comincia a a mettere in atto quella che è la teoria alla pratica e mi riferisco alla fase realizzativa allora la potrebbero spuntare loro per il fattore casa per il fatto che nesta ribadisco è quello che vedo un po più in difficoltà tra i due allenatori la fiorentina c'ha calciatori più forti e di più alto potenziale inutile dirvi che col pani ragazzi potrebbe segnare il gol dell'ex non la vedrai una cosa così impossibile attenti ai rigori di pessina e soprattutto attenti all'imprevedibilità di daniel maldini che secondo me ragazzi quest'anno poi dipenderà ovviamente anche dall'andamento del monza ma c'ha possibilità di alzare la sticella di fare un campionato da protagonista cosa che finora con il monza non è mai riuscito a fare tra concorrenti calciatori concorrenti e via e via dicendo mi sembra che nesta voglia fortemente puntare sulle caratteristiche del figlio d'arte quindi vi dico vi dico questo altra partita che mi interessa in particolar modo è genoa verona il genoa che ragazzi si sta confermando senza good moon sono ereteghi su livelli importanti il verona che vabbè all'ultimo ragazzi è arrivata una sconfitta con la juventus per manifesta superiorità ma ripeto i primi 20 minuti non mi erano dispiaciuti forse proprio per quel motivo nonostante la sconfitta sonora se la giocheranno a viso aperto tranquilli senza paura ancora ricordano quello che è stato il 3 a 0 che hanno inflitto al napoli ma il genoa in casa ragazzi è un fortino non dico irrespugnabile ma contro queste realtà quasi potrebbe uscirci fuori un pareggio il colpaccio del verona non non lo vedo manco non c'è credo manco se lo vedo vi dico vitigna per il genoa che ad oggi non è ancora una certezza indiscussa secondo me può fare qualcosa in più e per quanto riguarda il il verona non voglio essere ripetitivo ragazzi perché rischierei di dire sempre i stessi nomi non l'ho mai detto e io qualora dovesse giocare titolare punterei il mio centesimo sul livramento attenzione perché lo vedo un calciatore veramente indirizzato salto juve roma ve lo dico per ve la dico per ultima e vado a udinese como primo settembre ore 20 e 45 allora il como nella seconda giornata ha dimostrato di aver alzato l'asticella hanno preso giocatori importanti pazzo su tutti ma anche quell'altro ragazzetto l'amprestito dal sito dal city scusatemi per rone mi piace tantissimo non lo so se giocheranno titolari pazzo probabilmente sì per rone potrebbe subentrare o potrebbe giocare titolare cioè non mi meravigli ecco visto che sto parlando tanto di como non mi meraviglierei qualora l'udinese dopo aver battuto la lazio in casa loro a sto giro dovessero non dico prendere la scoppola ma perdere nel risultato contro contro il como qualora dovesse spuntarla al como che ne so un 1 a 2 non sarei meravigliato proprio ando più in favore del como a sto giro 1 a 1 1 a 2 qualcosa del genere l'udinese difficilmente e fu così che l'udinese vinse 8 a 0 5 a 3 a 0 non la vedo possibile come come cosa ad oggi percezione mia vedo vantaggiato il como e i nomi ve li ho indirettamente detti ragazzi per rone pazzo questi sono i nomi che secondo me possono fare qualcosa attenti prima o poi belotti il primo collo lo dovrà buttare in rete le parole di fabbrica se sta lavorando bene con la riverano per quanto invece riguarda l'udinese non è scontato schierare toven perché toven è sempre stato un calciatore da punto interrogativo sta affrontando un momento di continuità tra virgolette nella partita precedente poi bisogna vedere se si riconfermerà però io lo schiererei qualora insomma ci avete lui e ci avete altre alternative io punterei un centesimo su su toven visto il visto il periodo chi lo sa che magari non non faccia qualcosa di decente altro giocatore in ballottaggio pacero e lovic chi gioca uno dei due se potrebbe provare a piazzare la partita per me più importante da difuso della roma ovviamente juventus roma all'allianz ragazzi non all'olimpico anche se ad oggi sarebbe cambiato poco vi dico la verità io non vedo come possiamo riuscire a strappare anche un pareggio ad oggi ve lo dico con tutta tutta l'onestà del mondo tutta l'onestà possibile noi in due partite abbiamo raccolto un punto con due squadre di dimensione nettamente inferiore rispetto alla juventus soffrendo maledettamente dal punto di vista difensivo dal punto di vista delle occasioni che creano confusione in fase di impostazione tante palle perse fatica ad uscire palla al piede fatica di impostare dal basso sto a tirar fuori tutti tutte le negatività della roma di questo periodo ma loro cavalcano la cresta dell'onda del periodo dei nuovi acquisti di quelli che esordiranno di quelli che già hanno e che bene o male qualche cosetta già hanno giochicchiato stadio pieno tiago motta cioè io vedo già risultato indirizzato ragazzi ho paura che possa finire anche con un paio di gol di scarto in favore dei bianconeri appena passano dovessero passare un vantaggio immediatamente ragazzi miei famose il segno della croce perché se noi cominciamo a sfarfallare psicologicamente la partita non è che si mette in salita si mette proprio un discesa per loro che è diverso non sai ne scendi sei in balia in quel caso vi devo dare due nomi io vi do hildiz per la juventus troppo scontato dire vlaovic visto il momento di forma che sta affrontando e vlaovic nel bene o nel male si mette sempre altro nome che mi fa un po paura anzi altri due nomi le corsie esterne basse savona e cabal se gioca a savona help cabal probabilmente giocherà e ho visto quello che può dare l'apporto che può dare un centesimo sul gol dell'ex o sulle o di bala sui gol dell'ex si può si può tentare vi dico la verità viste le partite le prime due detobic che viene servito veramente poco o nulla non vorrei che possa trovare le difficoltà che ha affrontato nelle prime due contro una solidità difensiva nettamente superiore come quella della juventus forse le giocate del singolo a noi ci possono salvare qualcosa e ripeto i singoli più interessanti che ci abbiamo sono sulle di bala quale dei due segnerà non è dato sapere se ci avete sulle schierate sulle se ci avete di bala schierate di bala ho detto tutto quello che ve dovevo di io vi ringrazio per la visione di questo contenuto alla prossima tornerà a fabio grazie per il supporto che date sempre ai miei contenuti e ci vediamo alla prossima con un nuovo video grazie a tutti